Ancora una giovane vita spezzata a causa di un incidente stradale. Questa volta il destino avverso si è accanito contro la 21enne Roberta Raccioppo a Volese che è deceduta a seguito delle gravi lesioni riportate in varie parti del corpo dopo essere stata travolta da un'automobile guidata da un 19enne a Volese che adesso deve rispondere del reato di omicidio stradale. L'incidente è venuto poco prima delle tre di notte. La ragazza che aveva trascorso la serata in compagnia di amici stava facendo rientro a casa. Insieme con la cugina transitava a piedi lungo il ciclo della strada di Mare Vecchio ad Avola per causa del vaglio degli investigatori sulle quali la procura ha aperto l'inchiesta. Il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del mezzo centrando in pieno la malcapitata. La ragazza è stata soccorsa dal parente che ha rischiato anch'essa di essere travolta alla vettura ma non c'è stato nulla da fare. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 Roberta era ormai esanime. La vittima appunto aveva trascorso la serata nella vicina piazza Santa Maria del Mare zona piena di locali altamente frequentata da giovani e si stava dirigendo a piedi verso via Elsa Morante. Nel contempo gli uomini del commissariato di Avola che sono intervenuti sul posto hanno eseguito indagini di pulizia giudiziaria che hanno consentito così di fare piena luce sul grave episodio e risalire al responsabile dell'omicidio stradale che è stato identificato in Francesco Magliocco 19enne conducente appunto dell'auto il quale è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica e con una ferita alla regione frontale.